Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il video dovessero convivere il fotoleggendo. Lo spazio off che voi vedrete è completamente gestito dai fotografi di officine e dai foto editor formati all'interno di officina. Il fotoleggendo è un po' come il miracolo di San Gennaro, con la differenza che mentre lì avviene la liquifazione del sangue, qui c'è la solidificazione del sangue. Sicuramente quello di Tiziana, il mio, di Elena Giorgeri, un po' meno quello di Emilio che è un po' incosciente. Abbiamo deciso che l'avremmo affrontata raccontando la Sarajevo di oggi perché ci sembrava un esercizio di stile troppo sterile raccontare la Sarajevo di vent'anni fa. Alice Schmaier è qua con noi e oggi ha voluto venire da Sarajevo per essere presente a questa manifestazione, visto che è protagonista, oltre che in questo video anche delle fotografie che avete visto. Ho guardato il video e mi ha provocato una sensazione di stress emotivo, mi ha riportato indietro, mi ha emozionato. Io ho iniziato il mio lavoro a Sarajevo come volontario, no a Sarajevo, a Zerska, vicino alla Valle della Trina, è vicino a quello che è un nome per molti impronunciabile, ma che ha segnato la storia e pure la vergogna per l'Europa intera. La forza stessa nell'immagine sta nell'assenza dell'aspetto coerito, dell'aspetto evidentemente sanguinoso. Sarajevo è un'associazione appena nata di fotografi, fotoericos, giornalisti, documentaristi con la voglia di lavorare su progetti fotografici e multimediali. La forza stessa che ho avuto 10 anni fa, per il progetto Go Now Go, per l'Avron Dendere. E' la prima volta che abbiamo iniziato a fare qualcosa di multimediali. E poi ho iniziato ad un altro progetto, The Last Days of She's World, con la fotografia di Dana Dixonberg. e poi ho iniziato a vedere come abbiamo combinato la fotografia e la fotografia in l'escrizione. La organizazione è stata creata nel 2006, 10 anni fa. L'unica cosa che mi sento di dire, perché magari se lo mette le... Sì, scusate questa domanda... Ecco, è... Lui in realtà è incredibilmente venezianico. Cioè, quando vai in Brasile e fotografa una barca sul rio della Amazon, io ci vedo una cundola. Succede che un giorno, all'interno delle parole di un libro che per me aveva un valore affettivo, ritrovo una di quelle fotografie. Allora mi sembra che quella fotografia venisse sottratta ad un album di famiglia, che avesse comunque con me qualche legale, e che manifestasse tutta la sua interfezione, che appunto fosse magari in questa, in questo, risiedesse in questo, una barca di lettura. Che, in un certo senso, pur essendo imprecisa, contenesse in sé quella solita di intenzione verso il ricordo che noi tutti siamo in grado di condividere quando ci troviamo di fronte a delle fotografie private e vernacolari. E questo è quello che abbiamo trovato nella molto bella serie di Luca Giacosa e Pianne Bellou. Io sono ancora più orgoglioso di aver risposto a lui, perché ho apprezzo che lei ha fatto la stessa scuola di Boussard che io. Ma ha detto che ha scoperto che io sono testimone dopo aver scezionato Luca Giacosa, che ha studiato nella stessa scuola di fotografia. Il primo premio è andato a Lulecciagosa. A distanza di più di vent'anni dall'epocale revoca delle leggi nazionali in Sudafrica, l'autore, attraverso una tenacia ricerca fotografica, registra e porta in maniera lucida un importante approfondimento di tema sociale nella traccia del più importante fotogiornalismo autoriale. Gianmarco Paluzzi. Per la capacità di sintetizzare in un processo una tematica di grande attualità e futuribilità connessa a tensioni politiche e istanze nazionali, nazionalisti e sociali. L'indagine fotografica ha contestualizzato attraverso un maturo linguaggio visivo di reportage la gestione delle risorse naturali per il controllo del territorio e come attraverso la gestione di tale controllo sia possibile limitare la libertà di un popolo. Tommaso Troppo. Grazie mille. Grazie mille. La mia famiglia da ogni anno è stata veramente, senza ripetersi, ma sono stato un sacrificio enorme. Le prossime settimane ci sono altri incontri, altri opening di altre mostre, quindi vi aspetto tutti perché non sono le uniche queste, non è che finisce lì, sa chiudere e basta, no? Grazie a tutti e a tutti i giorni. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.